Mi chiamo Bernardo Briganti, sono un sacerdote di Corleone. Quando una persona è molto povera, viene detta scarsa, perché non ha possibilità economiche. In riferimento a San Bernardo che era molto povero, era un frate Cappuccino che non possedeva niente, aveva solo la sua cella e il suo letto, si dice più scassi, più bello, più bello. Cioè più scarso del beato Bernardo, più povero del beato Bernardo.